boxari ben ritrovati boxari xbox zone il canale fatto dai boxari per i boxari finalmente per una volta nella vita avete un canale un tempio che vi rappresenta e in testa a questo tempio c'è il vostro caloroso m ob che vi accogliono tutti come una chiesa simbolica dei boxari ma comunque non fondamentalisti pacifici paciosi tranquilli infatti noi ci rilassiamo che questo video che partirà con un pretesto un po provocatorio infatti vi ho fatto la provocazione anche nel titolo e forse anche nel thumbnail la provocazione c'è ma andiamo per gradi innanzitutto prima di iniziare vedete che in community ho messo il trailer definitivo di zelda the legend of zelda tears of the kingdom che è in uscita per nintendo switch quindi non roba box era una roba proprio che non c'entra niente con il nostro canale però mi è parso veramente doveroso mettere questo video questo trailer che sicuramente avrete già visto ma siete gente seria ma ci tenevo ad averlo come off topic come ho scritto vedete perché ragazzi un boxare pur sempre un sognatore se non vi emozionate a vedere queste cose ragazzi forse è meglio se vi fate un po un esamino di coscienza e smettete quei videogiochi dai perché questa è una roba davvero notevole veramente notevole e ho dei dubbi che il prodotto finale sarà completamente fedele al trailer perché intendo non è la prima volta che ci presenta un trailer di z che sembra tutto un prontato su un aspetto narrativo quando poi la narrazione in breath of the wild era per sottrazione c'era veramente quasi quasi inesistente quindi era un pochetto fuorviante tre le e mi sembra anche questo perché sembra che ci sia una storia epica dietro che aspetta solo di essere raccontata su questo ho forti dubbi che poi il gioco sia fenomenale con nuovissime idee genialate della grande n il big samurai questo è fuori discussione non credo ci sia nessuno al mondo che possa contestare una roba del genere sembrava un po un glorified dlc all'inizio però sembra che abbia preso un po la sua strada e sia un degno successore di breath of the wild anche se ne recupera lo stile in buona sostanza ogni z è sempre stato diverso questo è molto molto è praticamente uguale visivamente stilisticamente con l'aggiunta comunque di un grande sviluppo verticale perché ci sono i cieli vabbè insomma non è una recensione queste ragazze dico che se non l'avete visto sto trailer andate a vederlo perché insomma boxari sonari nintendari tutti i fratelli che volete ma questa è una cosa da vedere punto e basta emozionarsi se non vi fa nessun effetto ragazzi fate un esame di coscienza bene e ora dopo anche sto stessa marchetta nintendo andiamo al punto focale del video che ha una provocazione bella grossa l'ho lanciata anch'io in community perché volevo vedere le reazioni allora la notizia è questa qui red full che è il titolo in preparazione di arcane sotto bethesda studios zenimax per xbox e pc sembra che girerà all'uscita a 30 fotogrammi al secondo sia su xbox x che s quindi uscirà a 30 fotogrammi tecnicamente su serie x uscirà a 4k e su serie s a 1440 p quindi visto così sembrerebbero le modalità modalità grafiche cioè le modalità che prediligono l'aspetto grafico piuttosto che le performance e la modalità performance dove sta non c'è pare che al lancio non ci sarà ma verrà aggiunta in un secondo momento allora io vedete red full girerà a 30 fotogrammi e una patch 60 frame è prevista dopo l'uscita cosa ne pensate o allora prima di leggere i vostri commenti allora questo questo questa notizia che ormai mi era un po distratto era doveva ancora digerire i bagordi pasquali me la mi ha fatto l'assist il nostro caro amico toni maneri italia che ora ha cambiato ha cambiato un numero gli farò anche un po di pubblicità perché lui molto molto volentieri mi riporta queste news cavuffate un po di super partes ma in realtà è una bella flemmata da da dal nostro fratello sonaro che è perché 2 molto sonaro quindi quindi si diverte un po a tirare il film ma va benissimo va benissimo accettiamo la sfida tranquilli nel nostro salottino boxaro con nostro con nostro whisky sorseggiamo il nostro whisky e affrontiamo questa questa tragedia perché ragazzi siete pronti a vendere tutte le vostre console xbox xs portarle tutte al mercatino delle pulci vendere tutto e magari portarvi in casa a optare per una bellissima balena spiaggiata verticale come la nostra amata playstation 5 dei dei fratelli sonari ok quindi se sentite pronte andiamo avanti allora vediamo i commenti ma lena spiaggiata verticale sempre bello non ho finito con sony ho appena iniziato su un bello tranquillo nel mio salottino boxaro allora questa notizia mi ha fatto sorridere scrive fausto pioli ragazzi non cominciate a dire che faccio video di 40 minuti siamo qui a rilassarci potrà essere 5 7 10 20 30 40 se proprio non ce la fate mi dispiace andate a vedere di canali ce ne sono tanti anche xbox anche fatti bene andate pure a vedere altri youtuber che parlano solo a vocali spezzate nella disperata ricerca di di qualche visualizzazione e livello d'attenzione degli utenti ok io non per ora non mi pongo di questi problemi sono così il pacchetto è questo su un vero boxaro sa sa che cosa prende altrimenti la porta è quella ragazzi c'è nessuno vi obbliga ok allora questa notizia mi ha fatto sorridere scrive il fratello fausto pioli davo per scontato qui io lo so dove vuoi andare a parare davo per scontato i 120 fps con ray tracing al day one fra virgolette ma chi è che vi legge i commenti nei video ragazzi ma la vedete questi youtuber cosa fanno prendano i primi tre commenti gli mettano un cuore e tanti saluti ma chi vi legge ma chi vi glorifica così nei video come faccio io questa è una famiglia boxara senza precedenti per questo siamo venuti così così sani così belli e così seri allora finirò riuscirò a finire a leggere questo commento visto il dettaglio grafico non esattamente da mascella per terra do comunque sempre la priorità le idee e alla direzione artistica staremo quindi a vedere la qualità intrinseca della produzione allora sì effettivamente anch'io quando quando ho visto l'ultimo trailer di redfall al developer allo showcase developer che vi ho anche commentato per intero non è che mi avesse fatto proprio sognare a livello tecnico anzi mi dicevo fra me e me ma porca miseria sti pupazzi continuano a perseguirci anche nel 2023 però fra me e me pensavo che lo stile forse richiamava anche un po quello di fortnite un po fumettoso un po un po non so un un po così un po un po fantoccio un po non mi vengano i termini bamboccio e quindi va bene in una strazione diciamo una deformazione artistica è fatto un po cartoon quindi non ci si può pretendere super tecniche segrete della vita però certo possesse partono anche questi tagli allora se si torna al vecchio adagio bilaterale cioè o gli arcane francamente non sono proprio i fenomeni scritto ph i nomini tecnici o c'è qualcosa che non va nelle series a questo punto sta stanno castrando gli sviluppatori dove sarà la verità specie in questo ambiente di sviluppo vero così così improntata all'ottimizzazione vero che la gente si deve fare i computer da 5.000 euro con le con le schede grafiche di altissimo profilo per superare con la forza bruta quello che gli sviluppatori potrebbero fare cambiando tre slide ok comunque ti do ragione anche a me non sembrava proprio un esempio uno showcase tecnico questi tagli fanno abbastanza ridere ma abbiamo appena iniziato allora mister grand 79 scrive in pratica ormai si pagano i giochi in beta si ragazzi questo questo è un altro adagio che al mob piace perché io ho già fatto questo tipo di discussioni nel in tutte le mie considerazioni sul day one sui passi stagionali ragazzi non vi vendano più il gioco finale siamo box aria abbiamo superato abbiamo superato ormai questo questa fase l'abbiamo superata ma se ancora ancora credete di allinearvi a i vecchi utenti degli anni 90 degli anni 2000 primi 2000 che vanno il day one con 70 euro in tasca vogliono il prodotto limato levigato olio di gomito non esiste più questa cosa non esiste più anche per come sono strutturate le macchine siamo tutti online aggiorniamo tutto quotidianamente il sistema operativo tutto aggiornato tutto pacciato perennemente pacciato noi stiamo entrando in una fase ragazzi siete box a ricominciate a guardare un po avanti ok siamo in una fase di beta perenne beta testing perenne cioè non c'è mai il finale dire ok è finito no ci sono le tappe imposte dai corsi da dagli azionisti o dagli sviluppatori stessi come tappe della roadmap per raccaperzarci qualcosa e non è non ricevere una shitstorm disumana come capitò ai tempi a a city project red che per riprendersi lì ci ha voluto un bel po è incredibile che si siano ripresi è incredibile però alla fine se poi la qualità ti salva sempre il fondo schiena questa è la dimostrazione ti puoi sputtanare nella maniera più infame ma se poi tu riesci sempre a salvarti con il prodotto se il prodotto ha la qualità e se tu la metti in mano ai giocatori anche il ritardo alla fine ti perdonano e guardate che se sono stati perdonati loro si può perdonare tutti comunque siamo in beta perenne ragazzi cioè scordatevi quest'idea sempre più malsana di volere andare col vostro settantino in tasca e avere il prodotto dalla la z non lo possono fare non lo vogliono fare perché vedevano vendere di il sì vedevano vendere le microtransazioni vedevano vendere i pasta giornali dlc che vanno realizzati ve lo dovete scordare altrimenti veramente lasciate perdere e andate di retro gaming se volete i tipi di prodotti così il gaming moderno non è così ed è qui che il box era un grandissimo vantaggio ok andiamo avanti videogiochi e dintorni ex toni maner italia il nostro grandissimo fratello sonaro ci fa una citazione da fantozzi come sto andando male per dio ma dipende dai punti di vista carissimo videogiochi e dintorni dipende dai punti di vista ora sinceramente non è che se fosse fosse tutto il mondo col fiato sospeso per red fall francamente ci sarebbe anche un certo forza motosport che deve uscire un certo starfield e le altre centomila esclusive di microsoft che non si sa dove si sono perse ma si spera che prima o poi riaffioreranno ragazzi siamo boxari cioè noi siamo tranquilli siamo tranquilli qui cioè accettiamo anche la flemmata perché tanto siamo qui ci rilassiamo siamo l'abbiamo passate queste cose vince vi rendete conto che l'abbiamo passate non siamo neanche più dipendenti da una piattaforma non siamo più neanche dipendenti da xbox ma credete che questo canale sia solo dedicata alle console io posso parlare di quello che voglio io parlo dell'ecosistema xbox posso parlarvi anche di un pc carrozzato da 5.000 euro perché ci gira lo stesso game pass ultimate che io vi spiego come avere con 4 euro avete capito che cioè cominciamo a trascendere anche la piattaforma xbox è un branding è un servizio non è più un una piattaforma si gioca sul pc si gioca sul telefonino si gioca su sul tablet ci giochi sul pc mega carrozzato con un abbonamento completamente compatibile su entrambe le piattaforme ok quindi di cosa si sta parlando non non siamo neanche più legati a una piattaforma possiamo essere legati e fare tutte considerazioni in seno alla esclusiva quando hai un game pass con 150 mila giochi che non ti basta una vita a giocarli tutti e ti devi nascondere dietro la puerile alibi del fan ma tanto fanno tutti schifo perché mancano le esclusive ragazzi basta c'è gli anni 2000 sono passati ma le console sono morte ma l'avete capito che le console come si intendevano le console sono morte sono morte le console cioè probabilmente l'ultima console che rimasta in piedi non a caso vi ho fatto quella piccola intro è la switch di nintendo perché nintendo più che altro per il modo di lavorare non la macchina in sé perché la puoi emulare insomma alla fine un tablet glorificato tablet ma quello spirito lì è rimasto solo a nintendo in buona sostanza il gioco che tu vuoi giocare e zerda devi comprare una switch basta punto non è che ci si gira intorno si te la puoi anche emulare fra fra qualche anno lo emulerai quel gioco lì però non è la stessa cosa quindi se lo vuoi giocare il modo è solo uno qui invece è diverso sul console si gioca sul pc si gioca sul console cioè di che cosa vogliamo parlare di quell'altra azienda della balena spiaggiata verticale quell'azienda scandalosa che paga le software house per non fare uscire giochi su xbox ma su pc invece va bene quella quella quell'azienda che scatena l'antitrust contro microsoft per non fargli acquisire activision quell'azienda che paga capcom per non fare per togliere tutti i resident evil da game pass cioè nel tentativo pietoso di minare un servizio avversario quando tu hai anche il tuo cioè è quell'azienda lì l'azienda dei fratelli sonari della della balena spiaggiata verticale oltre a dominare tra l'altro le vendite perché non lo so ora ottimamente festeggiano il loro trionfo di console vendute non paghi di questo devono anche fare tutte queste azioni altamente discutibili e ne escono sempre fuori a testa alta cioè li sono sempre difesi e idolatrati da tutti soprattutto la stampa che la lingua la lingua proprio della stampa felpata parte dai piedi arriva fino ai capelli di sony quindi c'è ragazzi cosa volete dai fratelli boxari cioè andate andate da quell'azienda scandalosa che vi fa giocare i titoli cross platform o la centomillesima versione dei remaster giochi che poi ve li gioca il pc sta spernacchiandovi nel museo voi state anche zitti perché è uscito l'asto vaso 1 su pc è nettamente superiore alla versione playstation 5 quindi di cosa si parla ce l'hanno loro le esclusive hanno loro la macchina dove tutto calibrato su quell'hardware lì non esistono più queste cose quindi ragazzi andate dove vi pare qui se qui professiamo l'amore siamo tutti in pace siamo tutti sereni cioè qui noi non abbiamo siamo boxari non abbiamo un passato non abbiamo un presente e non abbiamo neanche un futuro noi abbiamo soltanto una linea piana chiamata singolarità ma avete presente il film lucidil di luc besson che cosa diventa alla fine lei diventa una chiavetta usb porca porca puttana diventa diventa un essere di silicio un essere superiore di silicio non ha neanche una forma torna indietro torna indietro nel tempo per vedere il faccione della scimmia che era l'antenata per capire da dove partiva e dove è andata a finire quello è il boxaro guarda la scimmia che è il passato ma ormai non ce l'ha più passato non ha un presente non ha un futuro è tutto è tutto una linea ragazzi quando capirete questa cosa tutte queste flammate delle esclusive coso e il gioco che va a 30 gioco che va a 60 non ve ne fregherà più nulla andiamo avanti andiamo avanti la lorenzo desisto e che con i propri giochi di punto dovrebbero essere sono troppo spesso in alto mare va bene ti do un cuore guarda anche se tu mi sei polemico non era meglio posticipare l'uscita scrive oli arts perché vogliono distribuire un gioco dichiaratamente incompleto beh oli arts l'ho detto poc'anzi no perché ormai l'utenza ammortizza completamente questa mazzana politica se c'è un gioco incompleto si incazzano tutti ma poi dopo quando l'hanno l'hanno rattoppato la gente dimentica oltretutto il boxaro riesce sul game pass non paga niente ragazzi non paga niente non è che deve essere l'utente col settantino in mano che lo deve completamente giustificare deve avere quella sensazione di completezza esistenziale per cui quei 70 euro devono essere stati meritati dal primo all'ultimo non lo pagate non lo pagate vi ho fatto fare fino al 2026 il game pass attimet a 4 euro il mese l'avete pagato due giochi ragazzi due giochi a posto per tre anni ok e nel 2026 ne faccio fare un altro porca miseria accidenta a chi non ve lo dice sugli spazi saltellando ve ne faccio fare un altro fino al 2029 va bene e un'altra ancora fino al 2032 fino all'apocalisse fino ai missili di putin va bene state tranquilli che vi faccio fare il game pass ultimate fino alla notte dei tempi all'infinito ve lo faccio fare e non pagate niente esce questo esce e non lo pagate quindi ma che cosa ve ne frega se esce a 30 frame e esce la patch 60 frame dopo due tre mesi l'avete pagato no andate su un'altra cosa se red full all'uscita sarà incompleto avete altri 149 giochi di che vi aspettano andate su quelli vediamo cosa ha risposto jason boris che era quello di venerdì 13 giusto essi infatti c'era anche nel avatar perché già stato rinviato più volte e devono rendere conto agli investitori o vedete boxari che io ho tirato su questo questa community meravigliosa io ne vado orgoglioso perché non faccio video di quattro minuti con le vocali spezzate spregando per un like e una visualizzazione io voglio tirare su utenti consapevoli fratelli boxari consapevoli eccoli i fratelli boxari consapevoli perché già stato rinviato più volte devono rendere conto agli investitori ragazzi devono uscire se non gli fanno un mazzo così chi ha pagato gli fa un mazzo così loro attoppano dopo ragazzi loro attoppano dopo e voi dimenticate e voi che non l'avete pagato dimenticata ancora più fretta ve lo dico io meglio farlo uscire ora tanto poi 60 inutili inutili grandi grandiosa polemica su sui 60 inutili fps vi arrivano non vi cambia nulla certo perché gioco si gioca anche a 30 fotogrammi allora ragazzi ha ragione il pc sta il pc sta sarà un po arrogante ma quando arriva il pc sta vi prende a schiaffi in faccia vi lascia le guanciotte belle rosse e vi canta la master race e vi dice statevene un po zitti caprette perché avete giocato a 30 frame fino a tre anni fa avete avete visto un anno a 60 frame adesso sgallettate ragazzi ha ragione hanno ragione perché hanno speso i fanta miliardi per farsi super pc pompati carrozzati non sono stati con una console che costa 200 volete liberarvi di una console che avete pagato 250 euro e un'altra 499 ma accomodatevi ragazzi andate a venderle e compratevi un pc da 5000 euro quello che ci vorrà per compensare con la forza bruta la cialtroneria di questi sviluppatori che non hanno più voglia di fare niente guardano solo agli incassi agli utili e al volere dei cosi degli azionisti quindi ragazzi l'ottimizzazione non esiste più ok quindi andate aggiungete altri 4 4500 a quei 500 avete già sganciato boxari vi fate il pc power horse e compensate con la potenza brutta se questo vi va bene niente più 5000 euro sul conto corrente tutti contenti giocata a 4k 120 fotogrammi per quanto pregate il più a lungo possibile perché sapete pc è roba che frulla l'hardware cambia non avete la garanzia di una configurazione standardizzata per 7 8 10 anni ok giuseppe castronovo ma che ci frega ma che ci frega sarà sul game pass ecco un altro fratello illuminato e chi non ce l'ha non deve comprare al day one si compra solo quando è completo quando io vi dicevo ragazzi quando vi dicevo quel senso quel senso d'urgenza uccidere quel senso d'urgenza e raccogliere nelle proprie mani tutto il potere disumano dell'utente far tremare questi sviluppatori fargli tremare il lato b fargli vedere i soldi fargliela annusare e poi ritirare la manina rotante no te li do te li do non te li do te li do non te li do te li do faccio non te li do faccia da pirla capito ragazzi questo questo è l'utente boxaro un impiastro totale paga se gli va se è il caso non è che va lì in pieno coso in pieno marasma meteorismo mentale e vuole il gioco a ogni costo no ragazzi boxaro non è un botto ormonale boxaro si compra solo quando è completo e se ci va avete capito se no abbiamo il game pass con centomila giochi sono loro che ci pregano sui ceci per favore giocate il nostro gioco per favore non lo so se mi va ok se mi va te lo gioco il gioco se mi va ne ho altri 149 amico joe che mi aspettano ok se mi va ti gioco se mi va vedremo vedremo le faremo sapere ok io avrei qualche perplessità sul gameplay dai primi video non sembra così divertente come nei teaser vedremo a giorni come sarà ecco ma è più io ho fatto il grande tocco magico del mob sì io non non sono un grande fan di arcane però hanno sempre fatto roba notevole si sono fatti il loro proseliti quindi penso che anche questo non deluderà ma vediamo ho saltato mario gulotta che scriveva penso che ho speso 500 euro più inutile e penso più inutili scusate ho letto male più inutili e penso che questa sia la mia ultima console senza le finale si passa un pc bene mario gulotta preparati quei 500 più 4.500 per il pc che ti servirà per farti dimenticare la serie x e vediamo le risposte dei fratelli nessuno anche io risposto è nessuno 8319 sarei tentata a darti ragione virgola ma visto quanto costa farsi un pc decente di come i titoli su pc vengono ottimizzati ottimamente ci andrei piano a dirlo bravo bravo non mi fate ripetere ragazzi non mi fate ripetere allora xbox zone cioè nel medesimo risposto ha risposto ma no serie x un ottimo affare anche a 30 fps ragazzi è un ottimo affare 499 avete una macchina che vale quanto pc da 1500 euro non scordate sta cosa ok jason warriss ancora scrive immagina pentissi aver comprato una console ottima solo perché dovrà aspettare qualche giorno in più per avere una patch per 60 fotogrammi come se attenta non si possa giocare uguale è vero alla giuseppe castronovo certo i 60 fotogrammi sono importanti sembrava che definissero questa generazione ma se così non è se non è possibile averli e ricordate il piccista che vi schiaffeggia sulle guanciotte e vi dice eravate a 30 fotogrammi fino al 2020 cari amici ma che cosa state sgallettando giù quelle creste alla giuseppe castronovo assi bella che uno leggo due volte sono un grande revelator ipica o zappa e vanga nessuno 8 3 1 9 che microsoft si dovrebbe vergognare per come tratta l'utenza console vediamo uno ride pangoccio lo ride a crepa pelle i boxari risponde xbox zone i boxari hanno superato il concetto di console trascendono capito ragazzi ma chi se ne frega se va a 30 fotogrammi ma chi se ne frega se va a 60 ma chi se ne frega se va a 120 ragazzi siamo boxare noi siamo siamo lì col whisky vogliamo giocare ma volete passare veramente quanto tempo vi è rimasto per i videogiochi fratelli boxari ora ve lo chiederò nella community quanto tempo vi rimane per giocare avete tutto sto sto gran tempo di per di perderlo il tempo volete veramente stare a capire che cosa va a 30 che cosa va a 60 cosa va a 120 che cosa va a 4k nativi anziché giocare siamo boxare i ragazzi lussi siamo diventati una fredda usb noi vogliamo giocare e giochiamo dappertutto cari amici giochiamo dappertutto il boxaro trascende se non si vergogna zoni scrive jason moris con la z di proposito di come tratta la sua utenza perché dovrebbe farlo microsoft che a confronto li tratta con guanti gialli chiudere veleto con ci sono tanti giochi meglio delle news red for a mio gusto quindi si fottano a proprio trascianto ok sempre il nostro amico videogiochi e dintorni ex toni manero italia ci ha suggerito questa fantastico articolo di un sito che non voglio assolutamente promuovere ma tanto lo faccio perché si vede comunque questo è un articolo drammatico assolutamente drammatico che pesagisce un apocalisse della ragione leggiamolo insieme la red for sta facendo parecchio discutere in queste ore alla luce degli ultimi aggiornamenti sul gioco in notenza del club ril quindi noi ci stiamo basando tutto sulle impressioni di un insider che ragazzo e mani insider guidano completamente la scena c'è un pirla che scrive su twitter in buona sostanza e dici sono però sono insider ok ha pubblicato una mara riflessione sullo stato di xbox una mara riflessione cioè come su un boxaro fa una mara riflessione sulla nostra tab community è un sito ci fa tutto ci fa tutto un grandissimo articolo è un approfondimento che ai ragazzi allora ricordatevo ragazzi ogni commento vostro è meritevole di un approfondimento drammatico come questa allora ha fatto una mara riflessione e quindi la facciamo anche noi cioè ci stringiamo tutti in un in un clima anche austero proprio la mestizia che comincia a farsi strada sullo stato di xbox in cui mette in evidenza le tante criticità e criticità e quel termine che adesso va tanto forte nel giornalismo come resilienza queste cose qui no è bello di una gestione che sembra trascurare i possessori della console ok quindi in buona sostanza abbiamo un insider che crede nelle sue amare riflessioni che la gestione xbox stia trascurando i possessori della console quindi quindi ci invita tutti a un esame di coscienza a un incopirsi proprio un tramonto su sulle nostre teste sulla nostra luce naturale luce box sarà alla virgola fra virgolette perché cita testualmente microsoft in questo momento deve fare attenzione evitare che i possessori di xbox si sentano degli utenti di seconda categoria ha scritto colo brill la notizia di red fall lo dico un po sullo stile lo leggo un po sullo stile di travaglio alla la notizia di red for senza modalità 60 fps al lancio dopo che il gioco è stato mostrato con quel frame rate in qualsiasi 3 del gameplay finora non è che la ciliegina sulla torta icing off che on cake ok xbox è stata molto chiara nell'esprimere la volontà di espandersi verso pc e mobile per anni il pc game pass in particolare sta ricevendo una forte spinta e microsoft addirittura ha sviluppato titoli first party che a lancio non sono usciti su console microsoft flight simulator age of empires era history untold al fine di offrire un'esperienza premium su pc mettendo a punto le xbox in secondo piano l'acquisizione da activision blizzard ruota anch'essa attorno a qualcosa di diverso del mercato console due punti a microsoft interessano king per espandersi sul mobile e blizzard per crescere ulteriormente su pc il che è del tutto comprensibile a patto che la tua fan base principale continua a poter godere di una grande esperienza quindi i boxari intesi come fratelli su console xbox non possono più godere di una grande esperienza perché secondo questo insider sono trascurati e microsoft è tutta sul pc sto guardando solo il pc xbox chi se ne frega non è che gli abbiamo gli hanno dato ci hanno dato due console con un rapporto qualità prezzo impareggiabile e anche molto belle a vedersi e incredibili a livello di silenziosità e funzionamento già questo non è che ci hanno dato un game pass che io ve lo faccio avere a due lire il mese che vi da una caterva di giochi che non vi bastano sette vite come i gatti per giocarli ma sono trascurati vabbè non è che devono uscire è l'anno proprio delle esclusive di rilievo come starfield come forza il nuovo forza motorsport e sembra proprio questo il momento per una considerazione così amara solo perché redfall va a 30 fotogrammi ebbene la console xbox non hanno visto cambiamenti sostanziali da diversi anni dato che le risorse erano richieste altrove feedback piuttosto forti espressi in merito al sistema di obiettivi di xbox alla dashboard in generale alla capacità dvr o cioè dvr quello quello di registrazione questa era proprio una cosa richiestissima tutti volevano assolutamente la funzione registrazione non hanno prodotto alcun miglioramento significativo cioè ragazzi ma non volete da quanto è lungo mamma mia non so se lo leggo tutto è perché credo da venne abbastanza i possessori sono sempre le considerazioni degli iniziali possessori di console xbox sono mai abituati avere un numero di produzione esclusiva inferiore rispetto a nintendo playstation vai anche anche meno esclusiva perché sempre sempre tutto sul campo delle esclusive abbiamo nintendo che esce con un gioco ogni quattro anni e abbiamo zoni con la z che vende giochi cross platform che che vende anche la mamma per poter istigare gli sviluppatori a non uscire a non uscire su determinate piattaforme ok sebbene io ami sia pentiment che grounded il 2022 è stato un anno semplicemente inaccettabile questo questo ora vabbè termini in termini forti però si può dire che 2022 non è stato il massimo questo questo è assolutamente un'analisi oggettiva inaccettabile è un termine abbastanza fortino devo dire sul fronte della qualità dell'offerta della quantità dell'offerta first party di xbox è vero comunque first party non se ne sono visti questo è grave semplicemente inaccettabile non so se tante grave 2022 non è l'anno proprio sugli scudi per microsoft e ovviamente non aiuta affatto che titoli come a rescano solo su pc dopodiché c'è la questione distributiva senza disporre di ulteriori dettagli edifici è sempre insider è difficile comprendere cosa stia davvero succedendo dietro le quinte ma pare che microsoft in questo momento non riesca a produrre abbastanza console bene c'è anche lo shortage produttivo finendo dietro ps5 anche nei mercati dove prima era più forte della piattaforma ma dove dove erano i mercati dove era più forte della piattaforma sony sinceramente non lo so perché sony domina le vendite dalla generazione scorsa è per questo motivo che microsoft ha trasformato completamente xbox in in un brand in un servizio perché non ce la faceva proprio a vendere le macchine di sony quella guerra non la poteva più combattere quindi io non so dove sono i mercati dove xbox era ancora forte usate magari per l'ignoranza vabbè pare che abbia perso anche quelli tra xbox live gold ormai diventato un meme solo gli utenti xbox devono pagare per giocare online letteralmente gli stessi giochi sugli stessi server che su pc sono gratuiti i games with gold che vengono regalati ogni mese sono ormai ascrivibili a un errore in termini di pubbliche relazioni ok questo è vero è vero che live gold è assolutamente assolutamente obsoleto su una console perché ormai veramente il live è gratuito ovunque però questo è anche malizioso perché non tiene conto del live del game pass ultimate che lo include e che vi costa 4 euro il mese e che comunque l'ha fatto tranquillamente anche il pc sta ok per soffrire di entrambe le cose quindi non stiamo tanto a girarci le scatole il live gold è praticamente adesso parte del game pass altrimenti quindi non lo si considera nemmeno non è una tassa in più che dovete pagare il game pass altrimenti ormai l'avete fatto tutti perché se non avete fatto ve lo faccio fare io con 4 euro il mese che avete quei 150 mila giochi a disposizione potete anche considerare che ci sia il multiplayer a pagamento ok prima o poi lo toglieranno è chiaro che ci sarà solo il game pass altrimenti della god non se ne sentirà più parlare però ragazzi cioè sony chiede 16 euro per il suo servizio il suo servizio online è 16 euro microsoft continua a chiedere 12 99 per il game pass altrimenti ancora non per molto temo che avevo già parlato su un altro video ma comunque ragazzi davvero e del live gold è vero dovrebbe essere eliminato ma fare una polemica su questo è proprio quello il meme non il live gold mm fare una polemica su questo perché ormai ma non se lo cosa più nessuno non se lo considera più nessuno perché parte integrante del game pass altrimenti è integrato anzi voi dovete solo ringraziare il live gold perché vi comprate le schedine a due lire e le convertite in game pass altrimenti quindi lasciatelo stare il live gold ma speriamo continui continui esserci perché almeno si continueranno a trovare le schede ok inoltre non ci sono state ancora sviluppi ufficiali sul fronte delle opzioni per espandere lo storage per giocare i propri giochi tramite xbox cloud gaming sì questo è vero in parte cioè perché è vero che stanno per uscire le memory card terze parti quindi non ci sono più le esclusive microsoft seagate e quindi si potrà godere del velocity architettura anche a prezzi più umani il cloud gaming effettivamente è indietro questo sono completamente d'accordo perché già in un video molti molti mesi fa io avevo detto avevo detto c'era c'era questo questo rumor che loro volevano espandere il cloud gaming anche alla libreria personale che sarebbe una rivoluzione pazzesca ragazzi cioè vuol dire che giocate tutti i titoli che avete acquistato li giocate sul cloud però dovete rendervi conto che a livello di risorse questo non è uno scherzo perché ci deve essere un xbox da qualche parte del mondo che fa girare il vostro cacchio di giochino che vi siete comprati quindi non credo proprio che non lo vogliono fare credo che stanno prendendo tempo perché è una roba un bel casino da fare però se un giorno questi lo fanno allora qui c'è poco da fare le considerazioni amare ci torneremo sopra 343 industries è halo letteralmente simbolo di xbox beh ragazzi un tempo è un tempo sono un po cambiati i tempi non siamo più ai tempi del della prima xbox e di xbox 360 che già ai tempi di xbox 360 alo cominciava già un pochetto ad ombrarsi sono stati colpiti duramente da licenziamenti in casa inter scienziamenti in casa microsoft il destino della nuova campagna di alo attualmente sconosciuto doveva esserci una comunicazione maggiore dai dirigenti nel caso di una proprietà intellettuale così importante alla bisogno di prospettive per il futuro questo è vero questo non ho nulla da dire perché quando lo annunciarono dissero che era un progetto decennale sulla falsa riga di destini e la campagna non è chiaramente finita anzi è praticamente iniziata quindi io su questo sono d'accordo ma l'hanno un po' abbandonato si spera qui che che venga recuperato perché a me tra l'altro halo infinite è piaciuto molto quindi chiude chiudono le amare considerazioni del nostro insider la verità che il posto migliore per giocare con i titoli xbox disponibili in arrivo non è su console ma su pc punto comprendo l'esigenza di microsoft di spingersi oltre le console per fare in modo che game pass funzioni non sono ingenuo ma non a costo di lasciare la fan base indietro allora questa questa è una chiusura a dir poco discutibile perché come detto poc'anzi si gli interessa al pc certo che gli interessa gli interessano i tablet gli interessano i portati gli interessa il mobile gaming gli interessano sì queste cose pc è cambiato ragazzi ma anche le console sono cambiate tutto è cambiato e le console sono molto meno console e i pc sono molto meno pc quindi il pc si è consolizzato in certi versi e la console si è pcizzata quindi sì è vero gli interessa anche il mercato pc senza dubbio ma non non sono completamente intercambiabili nel senso ragazzi sono soldi ragionieri sono soldi dovete cacciare fuori un sacco di soldi se volete farvi un pc competitivo per il gaming molti di più di quanti li spende li spendereste con le xbox console quindi le xbox console devono essere viste come dei mezzi con altissimo rapporto spesa qualità per giocare con due lire perché questo fate giocate con due lire perché vi prendete una serie s la pagate 270 euro forse anche 250 sacchi in offerta andate a vedere il mio tutorial e con 4 euro il mese fino al 2026 vi faccio giocare una caderva di roba quale questa ma da qui quanta roba c'è anche nc 23 ghost world tokyo anche questo ce l'ha suggerito videogiochi e dintorni a lui è piaciuto tanto e lo proveremo guardate quanta roba c'è cos'è tutta spazzatura e questo è solo quella nuova e questa è tutta la roba che avete a disposizione sempre ogni giorno è lì vabbè qualcosa esce qualcosa entra ma insomma esce e ne entra di nuova è tutta sta roba qui la roba microsoft per sempre la roba electronic cards per sempre la roba ubisoft per sempre perché hanno un accordo tutto il resto a seconda degli accordi con le terze parti tutto sto poco di roba qui a disposizione su una macchina da 250 euro con 4 euro il mese di abbonamento e se volete comprare qualche cosa ve la comprate andate a navigare su edge sul pc su qualsiasi cosa fate punti senza accorgevene poi magicamente andate a convertire i punti in soldi veri qui vi ho spiegato come si fa mannaggia voi andate a convertire soldi che avete fatto mentre eravate a navigare ok mentre guardavate xbox zone poi andate qui ve li andate a convertire in soldi veri eccoli qui riscatta in soldi veri poi andate nello store e comprate roba e ce l'avete per sempre finisce qui nel vostro storico per sempre ok eccola qui per sempre dove vado gioca di proprietà eccola la mia roba di proprietà tutti i giochi miei per sempre questi per sempre non è che mi sveglia una mattina non ci sono più ragionieri questi ci sono sempre e forse un domani ve li giocate anche sul cloud cioè non vi dovete scaricare un razzo e ve li giocate direttamente con un xbox serie x quindi anche mazzati situata in polonia quindi mi sembra di essere così tanto trascurati facciamola finita di considerare sempre tutto tutto nel filtro delle esclusive le console xbox sono dei mezzi fantastici di microsoft la sd di penetrazione per permettere alla gente a giocare con due lire è quello discorso sia mai che adesso torneranno in auge anche 1080p perché non ce la fanno le console a tenere 4k nativi a 60 frame 120 guardate se non tornerà in auge il vostro vituperato televisore 1080p andate a vedere se la vostra vituperata serie s collegata al vostro monitor a 1080p che non avrà problemi di performance perché avrà un target rendering molto più basso minore ambizioni maggiore resa starete a vedere se alla fine non sarete voi a fare l'ultima risata ok ragazzi bene abbiamo chiuso questo super super video ci siamo divertiti fatemi sapere anche cosa ne pensate ci vediamo alla prossima andate a vedere i nostri social ovviamente attivate la campanella per i prossimi video e soprattutto iscrivetevi abbiamo superato i 3.000 iscritti boxari siamo tanti siamo belli siamo giusti e siamo anche seri e soprattutto coscienziosi e io vi ringrazio il vostro mob vi ringrazia ci vediamo alla prossima ciao